nelle scorse due edizioni di artisti molto validi che attualmente alcuni dei quali partecipano anche a livello professionale ne cito una solo perché è stata nominata nel Best of Show e in Pirea il gioco di ruolo vede la partecipazione di Elisa Ferrotto che ha vinto la prima edizione del nostro concorso fra le altre cose questa terza edizione è stata una bella edizione molto competitiva abbiamo avuto ben 60 tavole partecipanti e ha visto lo sdoppiamento oltre alla sezione illustrazione anche della sezione fumetto è stata un po' se vogliamo una scommessa di questa iniziativa essendo che la nostra associazione ha approvato anche la via del fumetto oltre che del gioco abbiamo pensato di allargare quindi anche il concorso a questo genere che è abbastanza diverso rispetto all'illustrazione e devo dire ha avuto un po'